Il corso di telecomunicazioni del Divini ha come finalità la formazione di tecnici capaci di inserirsi in realtà produttive differenziate e caratterizzate da una rapida e continua evoluzione tecnico-scientifica, in grado di rispondere alle esigenze emergenti nel mondo del lavoro, con attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla tutela ambientale. Il tecnico diplomato in telecomunicazioni interviene sia nella fase progettuale che di gestione e manutenzione, perciò è in grado di scegliere dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione in base alle loro caratteristiche funzionali, individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, utilizzare le reti e gli strumenti informatici per sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza, configurare, installare e gestire sistemi informatici utilizzati nel campo dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. Il diplomato in informatica e telecomunicazioni ha una preparazione che gli permette di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro come tecnico specializzato, accedere a tutte le facoltà universitarie, lauree di primo livello e lauree specialistiche, iscriversi all'albo dei periti industriali per l'esercizio della libera professione dopo il tirocinio ed il superamento dell'esame di abilitazione, accedere alle accademie militari dello Stato italiano, partecipare a concorsi pubblici di enti o corpi dello Stato per i quali è richiesto uno specifico diploma tecnico.